È un dato di fatto che la vicenda coronavirus viene usata dai giornali di destra, ma soprattutto dalla destra stessa, per dimostrare che voi come governo non ci state cavando nulla. Come risponde lei a questa critica? Io lo lascio dire, perché penso che la gente non ragioni così. Sai, è capitato che non c'è neanche il cinese, c'è neanche un nero. Oh, ma come si permettono di non avere i coronavirus neri? Di non averlo portato loro? No, siamo noi che lo stiamo portando in Africa, tra l'altro. Voglio dire, quindi... Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati.